Si continua con gli ammortizzatori sociali alla ex FMA, oggi stabilimento del Fiat Gruppo Automobilisti di Prato la Serra. Nel corso di un confronto con i rappresentanti del Consiglio di Fabbrica, il capo del personale riondato ha annunciato la richiesta di proroga della Cassa Integrazione Stata Ordinaria per ristrutturazione per un altro anno. Il percorso passerà adesso attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali e l'incontro in Regione per la ratifica della richiesta del prolungamento degli ammortizzatori sociali. La nuova Cassa Integrazione dovrebbe essere concessa per il periodo dal 17 novembre prossimo al 15 novembre del 2015. Nonostante gli annunci di un rilancio dell'azienda con un incremento dei volumi prodotti e conseguentemente delle giornate di lavoro dei circa 2.000 addetti, per l'emessenza dello stabilimento del Fiat Gruppo Automobilisti di Prato la Serra continua il trend avviato con appena 6 giornate mensili trascorse in fabbrica. Così è stato per ottobre e così sarà, stando a quanto annunciato dal capo del personale nel corso dell'appuntamento con il Consiglio di fabbrica, almeno fino al termine del 2014. L'auspicio dei lavoratori è che le prospettive possano migliorare almeno per il prossimo anno grazie alle nuove produzioni per il Renegade e per la 500X, oltre agli altri modelli che prevedono l'assemblaggio di motori realizzati a Prato la Serra, che dovrebbero assicurare un incremento dei volumi prodotti in Irpinia. La comunicazione dei vertici aziendali intanto ha alimentato i timori sul futuro degli addetti dello stabilimento del Fiat Gruppo Automobilisti ormai da sei anni alle prese con le difficoltà e di salari ridotti all'osso dalla cassa integrazione.